Musica Musica Benvenuti nel mio spazio YouTube. Questo è il nostro secondo appuntamento. Siamo a febbraio e fa freddo, anche se qui al mare non troppo. Ed è la stagione dei maglioni. Infatti sui miei ferri, anche questo mese, c'è un maglione ed è loiana di Isabel Kramer. È un maglione a collo alto con la manica scesa, drop sleeve. E lo sto lavorando con un blend di lana e arpaca. In realtà il filato originale doveva essere un 100% alpaca. Io non amo però lavorare con l'alpaca in purezza e quindi alla fine sono arrivata ad un compromesso. Ed è questo, cioè la Drops Nepal, che è un filato 65% lana e 35% alpaca. Non è un filato di grande pregio, devo dire, però è un buon compromesso, è un buon rapporto qualità-prezzo. Mi ha fatto un po' tribolare per quanto riguarda la tensione, cioè il campione, perché il progetto originale richiedeva 20 maglie in 10 centimetri. Io queste 20 maglie non riesco a raggiungerle con un filato worsted, cioè un filato di spessore medio. Probabilmente lavorando un'alpaca in purezza, in 100% alpaca, si riesce a raggiungere, nel senso che a parità di peso l'alpaca è meno voluminosa e quindi probabilmente si riuscirebbe. Però, appunto, come ho già detto prima, non amo lavorare con il 100% di alpaca. Quindi ho dovuto un po' tribolare e alla fine, insomma, ho dovuto rifare un po' tutti i conti e nonostante abbia cambiato il calibro dei ferri, perché uso un 3,5 invece del 4, non arrivo comunque a questi 20 centimetri e devo seguire delle istruzioni differenti, nel senso che seguo la taglia inferiore alla mia, stando attenta a rispettare invece le lunghezze. Insomma, alla fine, insomma, sono arrivata finalmente, dopo un anno, a decidermi e a avviare questo maglione, questo jana. Questo è quanto ho adesso sui ferri. Per quanto riguarda quello che avevo il mese scorso, era il fine vest, che è un gilet lavorato a Ferail, un color work, ed è questo, finalmente l'ho terminato. Non lo indosso perché, devo dire, che lo smanicato in questo periodo non è proprio adattissimo, anche se è molto pesante, devo dire. Un altro lavoro che avevo terminato sono questi, i primi calzini del 2021, che sono questi, si chiamano, le ho chiamate i fragole a colazione, perché c'è questo rosa, e l'ho lavorato con la Drops Nord, che è un filato specifico per calzini, però che contiene un pochettino di alpaca, o alpaca, meglio. Devo dire che dà questa velocità, che per i calzini non è male, in quanto dà questa sensazione di calore non male. è l'unica cosa che forse non è molto adatto per il color work, perché non è ben definito, però devo dire che comunque mi sono divertita. Come avrete ormai capito, l'argomento è l'alpaca, il cui filato dobbiamo fare attenzione a non chiamare lana, perché la lana è solo la fibra che proviene dalla pecora. Il filato può essere composto da fibra vegetale, animale o fibra sintetica di vario tipo, e alla vista può effettivamente sembrare lana. Quindi solo la lettura della fascetta del gomitolo ci svela l'esatta composizione del filato. L'animale alpaca è più simile ad un piccolo cammello, che ha una pecora. Infatti fa parte della famiglia dei camelidi, e in comune con questi ha tre stomaci, tanto che i camelidi sono detti pseudoruminanti. E nei secoli i camelidi sono stati utilizzati ampiamente per il trasporto di merci e persone, in particolar modo gli esemplari più grossi, come i cammelli dei deserti rocciosi dell'Asia centrale, che riconosciamo dalle due gobbe, e i dromedari del deserto africano, che di gobbe ne hanno una, e allo stesso modo i lama sulle ande, anche se di gobbe non ne hanno nessuna. Per la vita delle popolazioni andine i camelidi sono fondamentali, perché forniscono carne e latte per l'alimentazione, e il vello viene usato per l'abbigliamento e i prodotti artigianali. Però forse vello non è la parola adatta, perché una differenza tra lana e alpaca è anche quella che la lana è una vera e propria fibra, mentre quello dell'alpaca è un pelo, quindi un pelo che presenta un midollo centrale, proprio come i capelli, e questo spiega il suo maggiore peso. Lama e alpaca sono animali simili, molto simili. Il lama si riconosce forse perché ha le orecchie più lunghe ed è un pochino più grosso. Tanto simili che potrebbe succedere che il nostro gomitolo di alpaca in realtà contenga lama. Infatti spesso i produttori del Sud America etichettano il loro filato non sulla base della specie animale, bensì sulla qualità della fibra. E quindi la fibra intorno ai 30 micron in genere viene detta lama e quella più sottile viene detta alpaca. E tutto ciò a prescindere dall'animale di origine. Effettivamente ci possono essere esemplari di lama particolarmente pregiati, la cui fibra può ricadere sotto la classificazione alpaca. E questo succede perché il lama è comunemente riconosciuto come l'animale dal pelo più grossolano, anche se poi nella realtà, al giorno d'oggi, può non essere così. In Sud America sia lama che alpaca infatti sono stati selezionati nel tempo per dare una fibra sempre più morbida e sottile, tanto che quella migliore viene chiamata suri. E spesso, di conseguenza, anche l'animale viene detto suri, che sia lama o alpaca. Insomma, lama o alpaca, si tratta di un filato che proprio come la lana può infiltrire, ma a differenza della lana non contiene lanolina e che in alcune persone crea problemi di intolleranza o di allergia da contatto. Come ho detto prima, è un pochino più pesante della lana e quindi è molto importante campionare correttamente perché una tensione, diciamo, bassa crea un aspetto abbastanza pensolante e il capo non manterrà la forma. Non è una fibra elastica, non parliamo certo del cotone, però, insomma, rispetto alla lana non è molto elastica, però è una fibra forte, resistente e anche se è ovviamente possibile tingerla, si presenta in tanti colori naturali molto, molto interessanti. Mentre l'alpaca e il lama sono animali addomesticati, i loro corrispettivi selvatici e probabilmente i loro antenati sono la vigogna e il guanaco. La vigogna è un animale selvatico abbastanza piccolino protetto dalle leggi internazionali e presenta un pelo veramente sottile, parliamo di 8-13 micron a livello del cashmere più pregiato. Ma torniamo all'alpaca, come possiamo capire la qualità del gomitolo che stiamo acquistando? In realtà ci sono diverse classificazioni e però tutto questo rende abbastanza difficile il riconoscimento. Ma se sull'etichetta troviamo la parola suri, che come ho detto prima indica gli animali selezionati per dare un filato di alta qualità, possiamo già essere sicuri della pregevolezza del filato. Se poi troviamo baby suri o baby, siamo davanti ad un filato ancora più prezioso con uno spessore della fibra intorno ai 20 micron. Se la parola è royal, probabilmente lo spessore è anche inferiore. Superfine in genere indica una qualità media e scendendo nella classificazione troviamo warizo e poi lama, che come accennato prima non si riferisce agli animali. Infatti anche il warizo è un camelide, è un incrocio tra lama e alpaca, ma qui viene inteso come spessore della fibra. Spero sia tutto chiaro, mi fermo qui, aggiungo solo che quanto vi ho raccontato ha una fonte ed è questo libro The Fleece and Fiber Source Book, un testo che descrive più di 200 fibre dall'animale al filato. Alla prossima e buona maglia a tutti! Grazie a tutti!